Ciao a tutti cari ascoltatori medio Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi e attivare la campanella perché così ci aiuterete a migliorare i nostri video e a portarne sempre di più Vi tocca iscrivervi perché così le notifiche arriveranno direttamente sul vostro telefono e ogni eventuale aggiornamento metro lo troverete subito sulla vostra schermata senza doverlo andare a cercare Mi raccomando iscrivetevi e attivate la campanella Bene, detto questo andiamo a vedere la tendenza per i prossimi giorni Ci siamo lasciati dicendo che arriverà un po' di anticiclone con un lieve aumento delle temperature e questo ormai è andato di fatto perché già nella giornata di oggi le temperature sono iniziate un goccino ad aumentare soprattutto sulle regioni centro-meridionali Attenzione alle prossime ore perché l'aria più umida e l'aria più calda si intensificherà e al massimo arrivare nella giornata di domani soprattutto sulle regioni del centro-sud e della zona alpina e prealpina Attenzione a temperature alte e anche a locali temporali soprattutto sulle regioni del centro-nord e temperature come vi stavo dicendo alte sulle nostre due isole maggiori e sulle zone alpine Tutto questo però verrà subito rotto perché nel giro di poco a partire dal 10 quindi subito da sabato un'infiltrazione di area umida di origine atlantica porterà del maltempo e dell'instabilità su tutto il centro-nord portando anche una diminuzione delle temperature abbastanza costinzente addirittura fino anche a 4 gradi sul centro-nord e di circa 3 gradi sul centro-sud Questa fase poi si dovrebbe dilungare senza più trovare una vera e propria alta pressione che verrebbe difendere la nostra penisola come possiamo anche vedere con possibili incursioni sia dalle zone dell'est sia nelle zone dell'ovest anche con termiche sotto la media stagionale fino anche tra i 4 e gli 8 gradi soprattutto sul centro-nord mentre sul sud temperature che rimarranno nella media stagionale senza troppi cambiamenti ma come stavo dicendo una fase di stabilità che potremmo portarcela a lungo facendo invece una tendenza a medio e lungo termine possiamo vedere che almeno fino al 20 di giugno non avremo grandi arrivi di anticiclone come possiamo vedere l'aria calda si sposterà soprattutto verso la Turchia e la Spagna dove qui sì avremo temperature molto calde ma invece il nostro settore europeo quindi quello dove c'è Francia, Germania, Italia e il resto dei paesi dei Balcani avranno una fase di instabilità e anche di temperature costantemente sotto la media stagionale non di tanto ma tra i 2 e 4 gradi su tutta la nostra penisola ringraziamo della visione evitiamo nuovamente ad iscrivervi al canale lasciate un mi piace e in cerce a seguire per non perdervi nessun nuovissimo aggiornamento medio